Si svolgerà fino a domani in Match It Now, la settimana nazionale per la donazione di midollo, osseo e cellule staminali emopoietiche. Anche Gela è scesa in piazza, lo ha fatto oggi a Muretti di Macchitella, in collaborazione con la Croce Rossa italiana, i VIP Clown di Caltanissette, con il patrocino del Comune, i volontari di Admo Gela, preseduta da Giacomo Giurato e Aduces Sicilia Ollus, diretta da Carmela Calleri, hanno accolto tutti coloro i quali hanno voluto ricevere informazioni sulla donazione di midollo, osseo e cellule staminali. Admo è sempre, ogni anno rinnova questo appuntamento e anche quest'anno non potevamo dire di no. Tra l'altro la settimana scorsa, il 17, è stata la giornata mondiale nel quale tutti diciamo grazie ai donatori. Sono quasi 28 milioni i donatori nel mondo e noi speriamo sempre che ogni anno siano sempre di più. ricordo sempre i numeri, uno su centomila, questo è un numero che per noi che siamo nel settore, insomma noi che lavoriamo nel settore, nell'ambito della promozione della donazione del midollo, è un numero che ricorre sempre. Uno su centomila è la possibilità di trovare un donatore compatibile con un malato. E lo facciamo anche pensando a chi in questo momento è in attesa di trapianto, cioè perché queste giornate vanno fatte appunto per questo, riuscire a trasferire questo bisogno, perché tutte le mattine chi è in attesa di trapianto aspetta che qualcuno di noi, qualcuno di voi che ci state guardando, venga nel nostro gazebo, nel nostro stede, nei poli di reclutamento per dare la disponibilità a diventare donatori di vita. E voi vi occupate con il vostro presidio all'interno dell'ambulanza, proprio della tipizzazione? Sì, e grazie ai nostri infermieri e soprattutto a Filippo Scicolone, è un infermiere della Croce Rossa che noi ci onoriamo di avere con noi. Ogni anno facciamo questa tipizzazione. L'anno scorso è bello sapere che l'anno scorso una persona tipizzata è stata scelta, era compatibile e ha potuto salvare una vita. e questo ci rende molto felici. Oggi siamo qua, come ogni anno, a diffondere la cultura del dono, a divertirci perché donare è bello, soprattutto donare un sorriso. Noi diciamo sempre che la pace inizia con un sorriso.